Il decreto del Ministro della Salute ha sentito il Presidente della Regione che porta la Toscana in zona rossa da lunedì prossimo. Dal lunedì 29 marzo la Toscana è in zona rossa, la notizia è arrivata proprio durante il CEPS, il Comitato per l'emergenza protezione scolastica, ha riunito proprio un palazzo Strozi Sacrati. Quel che è successo è che alcuni dati non sono stati contati, un laboratorio di Prato li ha dati in ritardo e così siamo passati da 248 contagi ogni 100.000 abitanti a 251. Siamo stati noi a renderci conto dell'errore e a parlarne con il Ministro della Salute Roberto Speranza, ha detto il Presidente della Giunta regionale Eugenio Gianni. Dai dati della settimana quindi risultano certo due positivi che non erano stati conteggiati. Si tratta di un anticipo della zona rossa pasquale che scatterà in tutto il Paese venerdì prossimo. Nell'approfondimento che abbiamo fatto, rivedendo le schede, vi è la scheda di un laboratorio, un laboratorio di Prato, che arriva non nella mattina quando tutti i referti devono arrivare, ma arriva ieri pomeriggio in regione. E arrivando ieri pomeriggio non è computato sui dati mandati a Roma. Quando stamattina ce ne siamo accorti perché il dato di Prato con queste circa 100 dosi di contagio in più apparivano molto alti, abbiamo ricostruito il tutto. E questo, guarda caso, proprio nel momento spaccato dal giovedì al venerdì, che porta al computo complessivo dei contagi, su cui poi valuta il Ministero della Salute attraverso la sua cabina di regia.